In chiesa della procura sul T-Redda, acquisita documentazione al comune di Avezzano. Piazza del mercato di Avezzano, il progetto è stato validato dai tecnici comunali. Campania antincendio Boschivo 2019, numeri importanti messe in campo dalla regione. Nuova governance per la donazione del sangue, se ne è parlato in un convegno di oggi a Pescara. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque il T-Red installato al semaforo nell'incrocio tra via 20 Settembre con via De Fiori ad Avezzano, che ha portato a sanzionare oltre 15 mila automobilisti, è che è stato tra le cause che hanno determinato la fine della giunta di Angelis, continua ad essere al centro dell'attenzione non solo dell'opinione pubblica e degli stessi automobilisti. Infatti si è preso che la Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla regolarità delle procedure seguite, a seguito dell'esposto di una donna di Avezzano. Ieri la Polstrada di L'Aquila ha acquisito in comune alcuni documenti per meglio capire come è stato utilizzato lo strumento di rilevazione, principalmente in riferimento alla interpretazione legata al superamento della famosa striscia bianca. E il Codacons interviene sul caro pedaggio, un'ottima notizia per gli automobilisti e i cittadini di Lazio Abruzzo. Così il Codacons giudica l'accordo raggiunto tramite la concessionaria strada dei parchi per congelare gli aumenti dei pedaggi su a 24 e a 25. Residenti delle due regioni rischiavano di subire a partire dal prossimo primo luglio una maxi stangata sulle tariffato stradali, con un rincaro del più 19%, aumento che avrebbe danneggiato la categoria degli automobilisti ed è in particolare i pendolari che tutti i giorni utilizzano le due autostrade per andare a scuola o al lavoro, spiega il presidente Carlo Rienzi. La sospensione dei rincari è pertanto una ottima notizia, ma non basta. Chiediamo che gli incrementi congelati sulla 24 e 25 siano aboliti del tutto, per evitare che a settembre si ripresenti lo stesso spettro che danneggerebbe in modo evidente i cittadini. Il progetto di riqualificazione di piazza del mercato di Avezzano è stato validato da tecnici comunali ed è stato approvato dalla Giunta Comunale, così come impone la legge. Ed è stato presentato alla città in una folata conferenza stampa nella sala consigliare del Comune, cui parteciparono oltre che cittadini anche tanti commercianti. Il progetto ha ricevuto anche il parere positivo della soprintendenza. Era marzo dello scorso anno, nell'epoca nessuna voce contraria si sollevò contro il progetto. A parlare sono Giancarlo Cipollone, Ferdinando Boccia, Fabiana Marianella, Iri De Cosimati, Maurizio Gentile, Leonardo Cascere, Sonia Di Stefano, Crescenzo Presutti, Arianna State, Francesca Novella, Alberto Lamorgese, Gabriele Tudico e Agatha Spera. A seguito dell'approvazione del progetto, continuano gli ex assessori e consiglieri, è stata andetta una procedura ad evidenza pubblica con una base di gare il progetto, così come approvato, selezionato l'operatore e firmato il contratto per l'esecuzione dell'opera. Tutte le fasi del procedimento, nella massima trasparenza, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente. Nella redazione del progetto si è tenuto conto della presenza degli alberi attuali, ma la tipologia del lavoro non consente la permanenza delle alberature esistenti, così come posizionate attualmente, poiché il loro apparato radicale metterebbe a rischio la tenuta statica dell'opera, col rischio per l'incolumità dei cittadini. Inoltre, il permanere di alberi di tale dimensione e tipologia genererebbe un aggravio per la manutenzione delle nuove coperture in vetro che andranno realizzate. Tutti gli alberi rimossi proseguono, saranno sostituiti con altre essenze più consone all'ambiente. Bisogna ricordare che proprio perché la ditta ha formalmente stipulato un contratto, il Comune, qualora si decidesse di non portare avanti l'opera, si esporrebbe a una causa certa e di operatori economici sulle offerte base del progetto approvato. In meno di due anni concludono l'amministrazione comunale di Avezzano ha prestato un'attenzione e cura al verde pubblico come mai in precedenza. Basta vedere Piazza Torlonia, il Castello Ursini, la cura del verde pubblico e il censimento di tutte le alberature. La sostituzione e la messa a dimora di oltre 250 piante sono solo una minima parte degli interventi eseguiti. 1.000 volontari abilitati, 120 mezzi di protezione civile con modulo di spegnimento incendi, un elicottero regionale, 60 uomini dei vigili del fuoco dedicati giornalmente con 15 mezzi, carabinieri forestali impegnati con 30 uomini ogni giorno e relativi mezzi pronti a raddoppiare in caso di necessità ed emergenza. Il personale della sala operativa regionale, quello della Polizia Provinciale di L'Aquila, abilitati al ruolo di COS, il coordinatore operazione di spegnimento per il coordinamento dei volontari. Finanziamento regionale di 1.700.000 euro per fare il massimo della prevenzione e del controllo sul territorio. Sono i numeri della campagna antincendio boschivo 2019 della regione Abruzzo, Regione Verde d'Europa, che è stata presentata questa mattina all'Aquila, Palazzo Silone, alla presenza del presidente della giunta regionale Marco Marsilio. All'incontro hanno partecipato il comandante regionale dei carabinieri forestali, generale di brigata Gian Piero Costantini, il direttore regionale dei vigili del fuoco Antonio Angelo Porco, il vice prefetto vicario dell'Aquila Malgari Trematerra, il direttore regionale Pierpaolo Pescara, Silvio liberatore dirigente del servizio emergenza e di protezione civile. Si tratta di una serie di attività di lotta attiva di incendi boschivi che la legge pone in capo alle regioni e che prevede una sinergia tra la protezione civile regionale, i carabinieri forestali ed i vigili del fuoco. Inizierà il primo luglio prossimo per terminare il 30 settembre, il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi nella regione Abruzzo. Rivolgo un appello a tutti i cittadini, ha commentato il Presidente Marsilio, alle coscienze di quanti frequentano le nostre montagne in queste settimane di vacanze estive, perché dovere di tutti salvaguardare il nostro inestimabile patrimonio boschivo e laddove si presenti una situazione di criticità di comunicarlo tempestivamente, permettendo così l'avvio tempestivo delle operazioni di intervento e di spegnimento. Nella quasi totalità dei casi, essi sono attribuibili per dolo o colpa grave alla mano dell'uomo, il resto a cause naturali. La prevenzione degli incendi, dunque, parte prima di tutto dal senso civico dei cittadini, anche con il rispetto di alcune semplici regole di comportamento. E domani sabato 15 giugno, nell'ambito delle iniziative istituzionali previste per ricordare il sisma del 2009, tutte le associazioni aderenti ad Ancescao delle regioni Abruzzo parteciperanno alla giornata di Ancescao a San Demetrio Nevestini per ricordare come nel periodo post-sisma l'Ancescao Rete Associativa Nazionale si è stata vicina a terremotati. Grazie alla raccolta fondi, l'Associazione Nazionale ha potuto donare infatti un pulmino per l'accompagnamento degli anziani non automuniti e soprattutto ha potuto ricostruire il centro sociale che era stato completamente distrutto dal terremoto. La giornata organizzativa dell'Associazione Ancescao di San Demetrio Nevestini in provincia dell'Aquila e del Comitato di Accoglienza Comunale avrà inizio alle ore 10 con la conferenza del titolo il ruolo dell'associazionismo nella società moderna ed in particolare il contributo dato alle popolazioni colpite dal sisma. Durante la conferenza che illustrerà gli importanti interventi e risultati ottenuti in termini di società e coesione sociale interverranno fra gli altri Silvano Cappelli, sindaco di San Demetrio Nevestini i membri dell'esecutivo di Presidenza Nazionale Ancescao Michelino Lucidi, presidente Ancescao Abruzzo Rossana Visconti, presidente della nascita del centro che testimonieranno il percorso di ricostruzione e le importanti attività realizzate dall'Associazione sul territorio comunale. Il legame tra Ancescao e questo territorio è molto forte Attualmente sono 10 le associazioni aderenti a Ancescao dell'Aquilano tutte impegnate quotidianamente in iniziative di solidarietà cittadinanza attiva e di socializzazione per anziani e l'intera cittadinanza e unite dall'obiettivo di voler offrire una nuova narrazione della città e dell'area. Nell'ambito del programma della giornata sono previste inoltre momenti conviviali e visite guidate alle grotti di Stiff e nel centro storico dell'Aquila. Una nuova governance per la donazione del sangue se ne è perlato oggi nel corso di un convegno che si è svolto a Pescara in occasione della giornata nazionale del donatore. Vediamo il servizio. Nel 2018 rispetto all'anno precedente in Abruzzo si è registrato una diminuzione del 5% del numero delle donazioni di sangue un dato in linea con l'andamento nazionale ma che si scontra con una percentuale identica di segno opposto del numero dei pazienti trasfusi che è invece in aumento. Il dato è stato presentato questa mattina a Pescara in occasione della giornata nazionale del donatore nel corso di un incontro a cui hanno partecipato l'assessore alla salute Nicoletta Verì il direttore del centro regionale Sangue Pasquale Colamartino i rappresentanti di Avis, FIDAS, Croce Rossa, ADOS e dei servizi trasfusionali delle ASLA. Questo trend negativo deve essere tempestivamente contrastato con adeguati interventi di programmazione organizzazione sanitaria e di promozione sociale ha commentato l'assessore Verì ed è per questo che ci siamo già dotati di uno specifico strumento di programmazione che si basa su due linee d'azione l'attuazione di progetti innovativi per rafforzare le attività di promozione della donazione di sangue e la prevenzione delle principali malattie croniche l'istituzione di un tavolo di concertazione tra regione, ASLA ed organizzazione dei donatori che affronti le problematiche più urgenti legate all'autosufficienza regionale e più in generale alla sostenibilità del sistema trasfusionale. Per l'attuazione del programma sono state previste anche le necessarie risorse finanziarie che potranno comunque essere utilizzate dalle ASLA. Con la Martino ha rimarcato che nonostante l'incremento dei pazienti trasfusi il fabbisogno di emocomponenti sia mantenuto sostanzialmente stabile grazie alle misure adottate dai servizi trasfusionali per il controllo dell'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo di strategie terapeutiche alternative alla trasfusione di emocomponenti cioè autotrasfusione e patent management. Attualmente il sistema sangue abruzzese conta circa 34.000 donatori di cui 30.800 periodici ed oltre 4.400 alla prima donazione. Ora le impressioni dell'assessore alla salute Nicoletta Orì e del direttore centro regionale Sangue Pasquale Colamartino. Oggi è una giornata importante perché celebriamo la giornata del donatore e quindi noi delle istituzioni in modo particolare l'assessorato alla salute è molto vicino a questa forma a questa attività con documenti concreti. Abbiamo già elaborato un programma di interventi che si basano su due direttive ben precise uno è finalizzato alla sensibilizzazione di tutti i cittadini affinché si possa donare sempre di più perché il sangue è fondamentale per la rete ospedaliera per la rete dell'emergenza urgenza e poi abbiamo istituito un tavolo di concertazione dove sederanno non solo le istituzioni ma anche tutte le associazioni per delineare quelle linee programmatiche importanti di progetti progetti che saranno sostenuti anche da un punto di vista economico con i fondi sanitari e quindi daremo questo valido contributo affinché la regione possa governare tutto il sistema in maniera omogenea nella nostra regione. Diciamo che negli ultimi anni si è assistito a un lieve calo della donazione del sangue in Abruzzo però è un calo che persiste ogni anno quindi è necessario intraprendere immediatamente delle azioni per contrastare questo trend negativo per mantenere in equilibrio la situazione in Abruzzo abbiamo dovuto importare circa 2500 unità di sangue dalla Lombardia che ci ha sostenuto in una logica di autosufficienza nazionale ma dobbiamo fare di tutto per diventare totalmente autosufficienti oggi sono state illustrate tutte le azioni che dovranno essere intraprese rapidamente per questo obiettivo e quindi saranno dei progetti sicuramente innovativi che riguardano soprattutto nuove strategie di comunicazione che vadano a raggiungere il target dei giovani facilitare l'accesso dei donatori nelle strutture di raccolta della rete trasfusionale abruzzese perché uno dei problemi per cui la gente non può donare è perché ha delle problematiche col proprio lavoro e quindi bisogna rendere più flessibili gli orari di accesso magari donazioni pomeridiane anche provare a donare la domenica l'altra cosa importantissima che ha lanciato l'assessore oggi è quella del tavolo di concertazione con le aziende sanitarie le associazioni donatori di sangue e lì si dovranno proprio studiare bene tutte le criticità e trovare le soluzioni organizzative per contrastare questo trend siamo fieri e molto orgogliosi del lavoro che avete fatto perché è svolto con onore lontani dalla vostra casa siamo felici che oggi possiate stringervi di nuovo vicino ai vostri familiari e ricevere l'abbraccio di questa città che ha sentito la vostra assenza che è profondamente legata al corpo degli alpini così il presidente della regione Marco Marsilio ha dato il suo bentornato questa mattina all'Aquila ai militari del nono battaglione alpini dell'Aquila di ritorno da un'importante missione internazionale nato che si è svolta in Lettonia Marsilio che è ricordato di aver conosciuto da giovane tutta l'Italia grazie alle adunate nazionali alle quali partecipava insieme con il padre ha detto che per merito di questa esperienza ha compreso il valore del forte legame che unisce il corpo degli alpini alla nazione e alla terra che li esprime oggi questi giovani uomini e donne in armi che servono la loro patria sono riuniti a fianco ai loro veci che non li abbandonano mai e con i quali condividono l'orgoglio della divisa e della penna nera sul cappello ora ci spostiamo nel capologo di regione per una notizia di cronaca ieri il personale della squadra volante della questura dell'Aquila ha denunciato è stato di libertà un uomo e una donna con numerosi precedenti di polizia anche specifici per truffe e danni di una persona anziana la donna residente a Trasacosi è presentata presso la localizzazione Carabinieri per denunciare una truffa subita da parte di una coppia un uomo e una donna con il metodo del danneggiamento dello specchietto retrovisore lato guida con immediato rimborso la coppia accompagnata in questura dopo gli accertamenti di rito sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e fatti oggetto del provvedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio emesso dal questore che prevede l'obbligo di rientro entro due giorni nel luogo di residenza e il divieto di ritorno per i prossimi tre anni in entrambe le città quindi L'Aquila e Trasacco i responsabili del comitato lavoratori RIPAM Abruzzo denunciano che recenti modifiche normative hanno introdotto importanti indennità stipendiali che possono superare il 50% del trattamento economico di base destinate solo ad una parte del personale tecnico amministrativo impegnato nella ricostruzione quello presso di uffici speciali con questo comunicato si intende denunciare quello che a tutti gli effetti appare come un privilegio piuttosto che una indennità il fatto che è stato già denunciato dal personale assunto tempo determinato presso i comuni del cratere sismico e che si occupa di ricostruzione dipendenti specificano che fanno parte delle 100 unità di personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti che in attuazione della legge Barca sono stati inviati in Abruzzo a seguito dell'evento clamitoso del 6 aprile 2009 come contingente speciale distaccato dalla sede centrale del Ministero impiegato per le attività di ricostruzione 50 unità sono state divise tra gli uffici speciali della città dell'Aquila e del cratere le restanti 50 sono state inviate agli altri uffici che si occupano di ricostruzione spiegabilmente si fa ancora presente solo e soltanto le 50 unità assegnate agli uffici speciali dell'Aquila e del cratere è stata attribuita questa indennità che dovrebbe essere invece il riconoscimento della condizione speciale qui operano tutte le 100 unità di personale distaccate dalla sede centrale del Ministero per esigenze straordinarie nel caso in questione per la ricostruzione post-sisma il personale escluso ha deciso di riunirsi nel comitato lavoratori Ripam Abruzzo per denunciare pubblicamente il privilegio riservato a Toluni piuttosto che ad altri secondo una logica di favoreggiamento politico che non favorisce la buona amministrazione e sono stati premiati con uno zainetto da utilizzare durante le vacanze estive i ragazzi della prima B dell'Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi plesso Borgangizia di Avezzano che hanno vinto il concorso Disegna la Sporta promossa da Tecneco i bambini delle scuole primarie della città nei mesi scorsi sono stati coinvolti dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune di Avezzano per raccontare con un disegno il tema la nostra sfida collaborare insieme per prenderci cura della terra abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per salvare la nostra terra dobbiamo prenderci cura di uni degli altri senza rischiare la distruzione di tutte le forme di vita del pianeta il progetto ha coinvolto numerose scuole di Avezzano grazie anche alla collaborazione di Ambeco ed ha permesso ai 370 alunni di frequentare delle lezioni sull'importanza della riduzione della plastica e poi di raccontare il tutto con un elaborato grazie a una giuria qualificata è stato poi scelto il disegno vincitore che è stato quello della classe prima B dell'istituto comprensivo come detto Mazzini Fermi presso Borgangizia Tecnico ha riprodotto l'elaborato su dei simpatici zainetti che nei giorni scorsi durante la premiazione sono stati consegnati da Scardino spera di Fabio e bambini tra lo stupore e l'entusiasmo di tutta la classe il sindaco uscente del comune di Avezzano Gabriele De Angelis ha reso noto che ieri mattina al sottopasso della frazione ferroviaria sono state installate le canaline che permetteranno a chi usa la bici in città di passare dalla pista ciclabile del centro a quella della zona nord un lavoro che Avezzano aspettava da tantissimi anni che abbiamo portato avanti dice con convinzione la mobilità alternativa è possibile tanti giovani la scelgono già ogni giorno una buona notizia anche per i viaggiatori che sulle stesse canaline riusciranno facilmente a trasportare i ciolei ormai da troppo tempo si continua a registrare un assoluto silenzio su una problematica immediata che pesa fortemente sulla vita dei cittadini abruzzesi e non vi sono infatti troppo spesso le difficoltà nell'accesso alle prestazioni sanitarie riferimento alle liste d'attesa tema di grande importanza rispetto al quale è incredibile registrare il persistere dell'inerzia da parte della giunta regionale sono anni afferma il consigliere regionale Movimento 5 Stelle Marco Cipolletti che i cittadini subiscono un sempre maggiore disagio nell'accesso al diritto alla salute che si traduce in una inesorabile continua fuga verso strutture fuori regione nell'acquisto di cure essenziali a caro prezzo per ovviare attichete e liste d'attesa peraltro risulta insufficiente l'erogazione dei LEA i livelli essenziali di assistenza e scarse la trasparenza e la partecipazione rispetto all'obbligo di una chiara informazione sulla performance sanitaria e aziendali e sull'accesso ai servizi un quadro complessivo prosegue sconfortante ed allarmante assolutamente da cambiare da cui ripartire per rilanciare un rinnovato servizio sanitario regionale che possa dare maggiore fiducia e certezza ai cittadini il mancato battimento delle liste d'attesa potrebbe essere tra le cause di decadenza dall'incarico di direttore generale dell'asla è inaccettabile che un cittadino debba aspettare mesi e mesi per prestazioni sanitarie talvolta indispensabili a salvare la propria vita attese lunghe mesi se non anni per effettuare una prestazione sanitaria nella sanità pubblica a fronte di una sola settimana nel privato effetto di un progressivo sistema di tagli indiscriminati alla spesa del servizio sanitario nazionale la spesa privata dei cittadini infatti arriva a quasi 35 miliardi di euro l'anno risulta evidente quanto sia urgente non più rinviabile un'oculata riprogrammazione di investimento straordinario in termini di risorse personale professionalità e tecnologie per tutto il nostro servizio sanitario regionale conclude il consigliere stellato Marco Cipolletti questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci a l'ultima notizia a l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia grazie a tutti